Resident Evil 4 Per ora non dovrebbero arrivare altri rinforzi Fino a quando gli Stati Uniti non avranno scoperto il traditore Potranno organizzare solo operazioni limitate Dobbiamo sfruttare il tempo a nostra disposizione per catturare la ragazza I due americani possono entrare nel nostro territorio utilizzando solamente due vie Ed è lì che dobbiamo fermarli utilizzando al meglio le nostre unità Concentreremo tutte le forze in una delle due vie per evitare che ci sfungano A presidiare l'altra via ci penserà il gigante Qualunque strada sceglieranno la gente e la ragazza non usciranno vivi di qui Eeeh mi sa di no eh Allora salvare no avevo appena salvato Ecco però è una cosa che feci anche all'epoca In pratica se tu diciamo scegli un percorso Lo fai tutto E poi non diciamo non apri la porta per andare oltre Andare avanti Puoi tornare indietro e fare anche l'altro Perché infatti ci sono due tesori da prendere Eeeh E si eh Allora io Inizierei magari Sarà questo il meccanismo per aprire I cancelli Quale cancello vuoi aprire? Io andrei prima da il gigante va Che a quanto pare ce n'è un altro Ok Qua abbiamo Sì sì ok a posto Abbattiamo prima lui E poi torniamo indietro Per ammazzare tutti gli altri Allora come munizioni non siamo messi affatto male Anzi Un po' pochi colpi doppietta Tutto sommato Però dai Ecco una cosa che io credevo E credeva anche Ferdy Che bastava lasciare Ashley qui E il gigante non la prendeva di mira Invece no Invece È la prima cosa che prende di mira Quindi Aspetta aspettate Ah beh no possiamo fare così anche Beh adesso lui arriva Eccolo Ok Dobbiamo sparare Esatto No Aspetta Ashley seguimi Seguimi Non stare lì però Preso Vai Andiamo Dopo raccoglieremo Tutto il raccoglibile Dov'è l'altro masso? Eccolo qua Vai Ok Andiamo Dov'è l'altro? Ce n'era un altro qui? No Allora mi sono sbagliato Erano tre Pare fossero tre Vabbè Aiuto Ma mi ha preso Per liberarmi Com'è che era? Ah ecco Ok Ok Aspetta che sono in fin di vita Ok Com'è già una doppietta Oh ma dio ha preso lei Aspetta Aspetta Ma Non ha funzionato Eh vabbè Eh si No questo Non è semplicissimo Non è semplicissimo Sto pezzo Allora riproviamo Riproviamo perché Ashley Ok Ho preso Se non fosse per Ashley L'avrei già superato Da un pezzo A questo punto Ma va bene così Che vi devo di Aspetta Eccolo Ok Ok Via Allora Usiamo Devo usare il cecchino Forza Se riuscissi A centrarlo In testa Facciamo a fare Proviamo a usare Bomba a mano Ok Ma se usassi Scusate Voglio fare una prova No Eh figuriamoci Però magari Un po' male Gli ho fatto Questo però Non lo so Ma io mi allontano Cioè magari Non è morto La Plagas Però È morta La Plagas Però male Gli ho fatto Via Ho tre colpi Poi devo ricaricare Ok Via Ashley Non farti prendere Ok Mi sta seguendo Aspetta Ce l'ho dietro Ok Ok Vai ricarica Approfittiamone Ok 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 Poi sul test Vai Vai di bomba Mettiamo il fucile Ok Via 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 Ho fermato Un attimo Cavolo Ce l'ho proprio dietro Andiamo Via Ashley Ashley Via 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 Aspetta Ok Aspetta Rischiamo 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 Quattro colpi Vai Bastava uno Ok beh Io ho schivato Nel dubbio Ho schivato Ok Mamma mia Eh ci ho messo Qualche tentativo Un pochino Ok Rischiamo Ho usato un po' di roba Quattro colpi Pistola 13 doppietta E due E due Sì 12 fucile Va bene Adesso andiamo a prenderci Subito Subito La roba Ah però mettiamo la pistola Ok Ah meno male Non è sparita Un po' di mitraglietta Spinello Ok Gata incendiaria Spinello Un botto di munizioni Pistola C'è No vabbè Un po' magari Li vendo Vecchia chiave Ok Adesso vediamo Guarda Anche qua Sì dai un po' Li vendo Sono troppi Allora Adesso però Ok Non apro la porta E torno indietro Però volevo vedere Esatto Che c'è un tesoro Che lo prendiamo subito Mi avvicino Mi avvicino però Ok Esatto Gemma viola C'è Ho 152 colpi Fuori dalla pistola No Sono tanti Troppi C'è già con 100 È un numero Sufficiente Ok Allora C'è altro qua Eccola Ci sono dei barili Però non posso raggiungerli Quindi mi sa che è inutile Sbaragli Ok Ah qua c'è una Cassettina I soldi Va bene Ok Credo non ci sia nient'altro Ah ok E il gigante È andato Perfetto Adesso torniamo indietro Vendiamo quello che c'è da vendere E facciamo l'altro percorso Eh Che vogliamo Rinunciare a tutte le cose Che i nemici ci danno Direi proprio di no Ok Ok Allora Io direi che Beh allora Momentaneamente Dai non vendiamoli Tanto un po' di spazio Ce l'ho Al limite lo vendiamo Alla fine Quello che è di più Si sa Ok Eh Basta Ah Monsimi taglietta Aspetto Basta 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 Salvo Si sa mai No non è capitato Né niente Finora Però si sa mai Magari Mi crasha il gioco Eh Ok Oh adesso Apriamo l'altro percorso Ok Perfetto Di qua Oh e qua ci sono Praticamente Solo Ganados Non proprio solo Solo Ganados Però Aspetta Un colpice Che abbiamo Oddio Plagas Aspetta Aspetta Plagas Eh Ok Allora Ok Perfetto Perfetto Io vorrei mettere Ashley La dentro Guarda quello lì Ok Perfetto Plagas Aia Eh Per quello fa male Cioè Pericolosa Ok Aspetta Va Dai Una piantina Usiamola Non abbiamo tante Ok Ok Perfetto Colpi Doppietta Quello la Mi ha rotto le balle Che mi lancia le cose Spera Ok Questi qua salta in aria Per caso Mi è venuto in mente adesso Andiamo Ah si Eh Me ne sono accorto ora Che c'era Ecco però Dai Adesso Ora che arrivo là Ora E sparisce Vediamo Aspetta Sì Eccoli In arrivo A uno Basta No Eccoli Vado a prenderlo Subito Ok 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 Ancora Perfetto Ok Ce n'è un altro Lì Facciamo una cosa Va Non credo Che Ashley Abbia problemi A stare lì Però Nel dubbio Dai Ok 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 Andiamo No Non mi lasci nulla Eccoti qua Ok Così almeno qua Anche se venisse presa Non sarebbe vicino All'uscita Ok Allora Aspetta Qua c'è un tesoro Esatto No però No 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 niente Mi ricordavo male Aspetta Allora Se vado giù di lì Adesso Spunta fuori Il finimondo Però Quindi aspettiamo Un attimo Fammi vedere Prima in giro Ok Non c'è niente Qua Coppia pistola Qui niente No Per volontà Niente Ok Ok No per sapere Se devo forza Andar di lì Adesso Favolo tornare su Oppure no Mi sa che devo andare di lì Sì Vediamo No sto guardando in giro Ma Sì Mi sa che per andare qui Devo per forza scendere Di là Va bene Allora Prepariamoci Perché Dov'è che era No questa è l'entrata Dov'è che era Qua Metto la Doppietta In caso di necessità Esatto Eccole qua Sono in due Eeeh Aiuto Io torno su Se permetti Eh Ok Guardali Ma che salgono Oddio Un altro Ah Aspetta Sono tutti lì Ne lancerei Un'altra Così nel dubbio Oddio E' ancora viva Lagas Ce l'ho dietro Ce l'ho dietro Andare via Sono ancora vive Tutte e due Eeeh Non ho più bombe Vero? No Beh fammi usare Dai Ok Tanto ne ho Ebbè Oh Chiave Accampamento Rubino Eccolo Eh Ok Perfetto Eh sì L'ideale Era salire Così facevo L'effetto Imbuto Eh Piuttosto che stare giù Ok Credo siano tutti Eh Credo Credo Andiamo Qua Ok 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 Ecco qua Chiave Chiave accampamento Vediamo se E' di qua Che C'è la Strada Altri colpi Ok Di qua si esce Esatto Vabbè Senti Tanto Tanti colpi Siete Siete parecchi Però eh Una bella Bombetta Qui ci stava bene Però Siete un po' Troppi Per la pistola Dai Ok Aspetta Lagas No Aspetta Aspetta Questa qua Ecco Vediamo Forse adesso Se questa non gli viene fuori Gli viene fuori Ah E' cambiato Per un po' Ecco A una Gli doveva venire fuori Per forza Un po' Troppo Vicino Signora Un'altra Ok Forse adesso Sono tutti Fammi riequipaggiare La doppietta Ok Eh Ho usato un po' Di colpi Dai Almeno Ok E qua ci siamo Qua ci siamo Però manca Manca il tesoro Si Aspetta Aspetta eh La strada Per il tesoro Ah ecco Vediamo di qua Ok 1.3 Va bene Scendiamo No non era giù No non era giù Mi pare Però Bomba a mano Ottimo Sarebbe stata utile Prima Munizioni Pistola Ok No E' una zona Così Di rifornimento Questa Ok Ah ecco Era di qua Si 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 Ok perfetto Bomba circante Eccola Gemma rossa E vai Abbiniamo Possiamo venderla Mo eh Perfetto Maschera Con tutte le gemme Incastonate Esatto Ma strano Non ho ancora trovato No abbin Esatto Non ho trovato L'ultimo occhio di gatto Oppure No Gli ho presi tutti Eh si Tutti li abbiamo presi Perciò Magari è avanti Magari è qua Manca un tesoro Al villaggio Questo qua Magari è lui Non ricordo Va bene Comunque Qua ci siamo Direi Allora Torno fuori Chiamo Ashley Aspetta che però Mi sa che La devo afferrare Da qualche parte Forse Vediamo Esatto Dove Aspetta Qui forse Dove sei Ecco Eh un attimo Ok Così facendo Abbiamo ucciso Tutti E Ottenuto Tutto ciò Che si poteva Ottenere Eh Andiamo qui No Aha Munizioni Pistola Basta Perfetto Possiamo Uscire Ok Ola Siamo Fuori Andiamo Suito Dal venditore Qua Eccolo Negozianti Anche se Aspetta Prima Guardiamo Qui Ah questa è la zona Sicura Va bene Ultima difesa Del villaggio Ho sottovalutato L'abilità Dell'agente americano È ancora vivo E non solo Abbiamo ammazzato tutti Volevamo aspettare Che l'uovo Si schiudesse Nel suo organismo Ma di questo passo Farà il tempo Distruggere L'intero villaggio Dobbiamo occuparci Di questo problema Vanno cambiate Le priorità Per il momento Metteremo da parte La ricerca di Luis E tenderemo Un'imboscata Ai due americani C'è un capanno Utilizzato come Logo di tortura Per i traditori Poco oltre Il punto di uscita Dalla funivia È il posto Perfetto Per tendere L'imboscata Se il piano Dovesse fallire Dovranno comunque Vedersela con me Prima di oltrepassare L'ultimo cancello Per uscire dal villaggio Il cancello Infatti Si apre solo Davanti al mio sguardo Ok Grazie per avermi detto Tutto Oh bene Dieci addirittura Ammazza Eh si perché poi in teoria Servirebbero Però Avendo la Red 9 Col calcio Non è proprio Necessario Il fucile da cecchino Alla funivia Qui c'è niente Sembra di no Allora andiamo Dal nostro amico Ok Aspetta Vai Ho tutto carico Sì Ecco magari 41 colpi Io li vendo Intanto abbiamo 50 50 più 10 La voglia La voglia Andiamo a usare qualcosa Di nuovo No Va niente Allora 41 colpi Li vendiamo Così Creiamo anche un po' di spazio In più Ok Poi Rubino Vendiamo E possiamo vendere la maschera Finalmente 20.000 Perfetto Perfetto Ho munizioni Mitraglietta No 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 Ok Qui Vabbè Che ce l'ho segna Se c'è qualcosa di nuovo Perciò Ok Poi Fatemi Riordinare Un attimo Ok Facciamo così Facciamo Così E così Ok E le due bombette Ce le teniamo così Va bene Spero Che arrivi presto La valigetta più grande Ok Ci serve